Atm informa, domenica 11 aprile dalle 9 alle 16. Stavo guardando per curiosità. Mi ha incuriosito il fatto che un'intera stazione sia dedicata a ebay. Penso che è strano di vedere un'esposizione nella metropolitana. Lo trovo abbastanza strano, ma può darsi che serva. Sono buoni. Sembra una bella idea, uno passa anche il tempo mentre aspetta la metropolitana. Interessante. Che cosa stava curiosando? Una camera da letto, un letto matrimoniale. Ne ha bisogno? No, per curiosità. Ma io stavo notando quel corpo macchina, siccome mi intendo di fotografia. Per il momento adesso stavo guardando il divano. E ho una cassettiera lì, ma così per curiosità, ecco, non perché. E' un'ottima idea. Ma stai curiosando? Ma un po' tutto, tipo questo qua, barista con esperienza di massima serietà. Io non ho la massima serietà, però barista potrei essere pure. Io sono incuriosito dagli animali. Cioè non penso che potrei prendermene uno, però sono quelli più toccanti, insomma. E voi ragazza? Da, quelli più strani, quelli un po' più, tipo, maglietto usate o... No, ho visto una cappa che assomigliava alla mia. E allora stavo guardando così. Ho notato fra le altre cose che o li avete messi stanotte e non sono ancora imbrattati. Come mai? No, è da qualche giorno che ci sono. Allora la gente mi tratta civilmente. Ottima idea. Grazie.